sì rimessi un po' di qua che un po' di la? io? nooo io questo non lo aprivo da 4 o 5 minuti no ho fatto le mie due ore su Facebook così per vedere quanti spettatori faccio non ho due medi Facebook zero al fanculo Facebook ah io ce ne ho io ce ne ho uno virgola e qualcosa medi che sono io come fai vederla la media ragazzi fai l'analisi giusto e ma dove come faccio è ma tu c'erai su pc no c'è sul telefono hanno sul telefono non lo vedi ti dovrebbe arrivare l'epilogo sulla mail ci dovrebbe arrivare l'epilogo del dello streaming sulla mail e lì c'è scritto non ce l'ho non mi è mai arrivato devi attivarlo in tre che mi stanno guardando devi attivarlo però non scrive adesso appena prendo sto cazzo di pc prova a guardare adesso si vede bene la live ho guardato un minuto fa sì ok vai dove scendiamo scendete è uguale ma chi c'è il pippo ah c'è anche il pippo non lo sento scendiamo scendiamo qua vaffanculo devo metterci le mutande che scendete lì c'è gente c'è gente a fanculo ma tirato giù luca arrivo 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 se venite fuori mi butto giù nemmeno io e se ce n'è uno ce n'è uno qui ce n'è uno qui ce n'è uno lì vaffanculo non riesco lì 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 col petto col petto un col petto non due sul tetto figa ma io ne avevo visto uno sul tetto o madonna com'è veloce è un po' di più cosa fa pippo giù anche morto madonna sei più veloce porca vacca sei più veloce madonna boom ma lo stai a mare luca 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 tutto giù a destra no ma fatto quell'altro ma fatto quell'altro stiamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando ti lasciamo lì andiamo le casse spiegui spiegui grazie ahahah dov'è che c'è gente? me lo puoi dire? pinga dov'è? dove hanno bombardato? Sì, dentro Allora scendo qua io Siamo con te va Oh madonna Che velocità che ho Porca puttana che velocità che ho Tiro un avì Minchia Pangolo da dietro 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 Guarda che non morite Non riesco a aiutare Vai via vai via Trovata Due cecchini ho Fatti tutti Fatti tutti Fatti tutti Cazzo Fatti tutti Sono una bestia Sono una bestia Ci mi dà una sacca No però se vuoi c'ho delle piastre Te qua Io ne ho quattro Madonna se veloce Cazzo Non ci capisco più niente Oh tetto Terra Quello sul tetto Sì No no ne è uno dietro Ne è uno dietro Vai via vai via Vai via vai via Aiuto adesso Ma ci sta fatta proprio Proprio meglio a sparare Quel figlio di merda Fatto Fatto Non so se quello sul tetto Si è arrestato No no Guarda da me No 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 Non ci è arrestato È morto È morto È morto È morto È morto Gli ho fatti tutti Gli ho fatti tutti Sì Sì Avevamo un carrello Un shop 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 Ciao ragazzi Shop è qua O lì O È rimasto solo di età Andiamoci piano E non sbagliate a restare Pippo Che non sta giocando Giusto Pippo Ma perché non sta giocando Pippo? Eh boh Eh ma infatti io non lo sento Tieni Non è uguale ragazzi Scegliete voi Che cosa? Quale shop andate? Andate questo qua davanti Andiamo Eh Andiamo a questo qua È quello più vicino Sì sì L'altro è 600 L'altro è la casa di Dio Andiamo andiamo Mare 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 Arrivo Arrivo Ah Ah Faccio un bagnetto Gente Oh Va là Il grosso Mi l'ha messo E' Se state lì io scendo in quella zona No vedi te Vuoi scendere a zaia Eh Scatta Eh E lo shop E lo pimbo Oh Oh Allora Fai un po' come cazzo ti pare Arrivo Aspè 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 Oh Cazzo fai No c'era una No c'era una Da Claymore Cazzo ho restato pippo Ho restato pippo Uh Ci abbiamo Ci abbiamo Il loadout qui 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 Frost 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 E' qua Guarda E' lì E' lì che arriva E' lì E' qui Occhio ti arrivi in testa Ti arrivi in testa Ti arrivi in testa Oh No 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 sono in due Cazzo No ho visti almeno due Scappa Luca scappa Scappa forest E' troppa gente Troppa troppa Non erano due E' erano tre Eh io ne avevo visti due Subito uno Poi quando sono morto Ho visto il secondo Maybe pause sniper Raffanculo Ci avevamo il loadout Adesso torno No Io arrivo Fare come Pippo E' là in alto A sinistra In alto a sinistra Bravo zio E' l'altro E' ce l'hai dietro I so fort I so fort Ha cercato Ricercato 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 Acqua qua Ha ricercato Ci faccio C'è non ce la fai l'hanno già preso ce n'è uno qua ma non ce la fai neanche qua non ce la fa neanche lì e allora fai questo no 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 vai incolo a sinistra che c'è un camion parcheggiato anche o vai dove vuoi dove te la senti vada affanculo vado veni c'ho 5 kg ma sono forte male con te vengo dove vuoi 5 kg sono proprio forte ma forte 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 ah si è scampato al gulag eh ecco ahahah figa che gufo ma cosa è forte minca ho sentito il gufo arrivare sulle spalle ahahah ah a carogna ah una grande ammalesse pippo ci sta sa capire se c'è il mio pippo pippone pippone chi piange ma chi è che piange è un po' che c'è il mio pippone dico allora è di pippone allora è di pippone ce l'avete voi ragazzi Rainbow Six Siege io lo scaricai l'ho tolto a cagare no è sfizioso è un gioco di squadra se non giochi con la squadra è inutile perché sto guardando non sai cosa potrebbe piacere esci 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 pippo abbandonato no dai sai cosa vuole prendere Hogwarts Hogwarts Legacy il nuovo è stata stupendo ma perché mi sono intrippato con a guardare una che stremma tra l'altro è una gran bella topa e gioca sempre mi sono intrippato a guardare una che stremma che tra l'altro è una gran bella topa che gioca sempre su Rainbow Six devo ripetere o ho mai sentito Rainbow Six si chiama si chiama Chicaio ma se vuoi lo posso riscaricare è una quale gratuito non ho capito non ho capito che cosa? eh dimmi che cosa tu ce l'hai Rainbow Six no non ce l'ho io la posso scaricare quello è gratuito cioè sul Game Pass non lo so non ci ho guardato però guardavo è lento madonna è lento con fronte a questo è lento è lentissimo rispetto a questo è lentissimo è lentissimo molto lento sarebbe bello giocare a Escape from Tarkov però è da PC noi voi siete tutti da console no io posso installarlo su PC ah Boomer ma sai in settimana mi cambio il processore ah si? cosa metti? si prendo un Ryzen Ryzen 7 5800 ah minca ah ok buono inizio a prendere quello e poi qui la prendo la scala video e passo tutto di là eh ricordati ricordati dissipatore di calore e l'alimentazione e l'alimentazione e l'alimentatore devo cambiare sicuramente l'alimentatore e tutto va bene la cosa più importante è l'alimentatore e il dissipatore di calore si no il dissipatore ci diciamo un custom bellino domani per me poi in settimana uno ti vado a filiare il processore e poi pian piano vado a filiare la scala via ma tu stasettimana sei in ferie come? tu stasettimana sei in ferie? io si allora la fate la maratona eh penso di sì 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 non so ancora di giorno però sì di più di giorno un po' meno no ma se magari stasettimana tra l'altro mercoledì devo venire dalle vostre parti dove? devo andare su a Gallarate è vicino a voi Gallarate Gallarate sì devo andare a vedere a che punto sta un telaio che ho che ho comprato dove cazzo avete pingato? che non vedo ah Sharim Sharim ok ok è la partita di prima con con Fede siamo scesi qua lui ha dopo dieci minuti aveva sette kill nove kill io zero arrivo 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 il mio salvatore il mio salvatore ti tocco tutto è uno là mi piace quando mi tocchi oh 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 scemo di merda si è buttato giù si è buttato giù fatto uno qua giù rimane intanto chi è che attossisce qua? perché io non sento Luca Luca mi lasci giù 500 io no di sicuro perché non ce li ho oh guarda me guarda me guarda me che cazzo fa questo ma vaffanculo guardalo qua camperato lì guarda me guarda me guarda me stai puma ha doodle lood flop stop flop puma let's go let's go let's go let's go let's go i 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 sto tornando ragazzi guarda qua sopra arrivo perché c'è uno no è lì non c'è niente di sopra non c'è tutta la mia roba sono andata a fanculo porca puttana mi servono armi non c'è una cazzo di arma qua neanche a pagarla si trovate una sacca da se trovo una sacca me la tengo ok non ce la neanche io ahahahhah non ce la neanche io ahahahha non ce la neanche io auto auto la mia grappola ha fatto da dove è? da dove è? sotto 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 Grazie. 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 Oh, ce n'è uno qui. Grazie. Fausto fausto. Oh. 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 Cazzo, stai scendendo. Oh. C'è una sega. Oh. 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 Che c'è la, fai. sì no ho incesso la traia sì no non mi soldi riusci a farlo anche qua volendo coprimi qua c'è una cassa thank you very much very book io vado direttamente dentro al laghetto qua vediamo se c'è andiamo andiamo a cenere aspettami sta arrivando il cazzo andiamo 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 e ah 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 ok ci sono il tombino qua c'è un tombino qua c'è una sega ma cazzo si sale qua c'è una puxata ma ora dove è freddo c'è una rocca c'è una rocca arrivo arrivo Arrivederci Oh Ma che cazzo Sono bot queste Sì, sono tutti bot Raga, il video che ce ne andiamo Eh, anche secondo me Un sacudissimo Ma non si sale qua Adesso Non sono bot, voci Voci Non c'era Questi non sono bot Quanto cusci Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Guarda tutto il cazzo Chi è che spara qua? Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è La macchina elettrica Sì Raga, prendiamocela Ce l'abbiamo Intanto L'ho Attenzione Arrivo 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 Cazzo Dove va a chiudere? Guarda dove chiude In mezzo In culo ai lupi Chiude questa E andrei qua Oppure possiamo andarcene qua E poi giriamo sulle montagne Oh Fermati 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 Qui 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 Niente qua Non ho capito No, no, no Ti vuoi fermare qua? Io mi fermerei qua Tanto vale che aspettiamo qua Porta la macchina in safe Si Porta la macchina in safe Non si sa mai La paccheggiare Faccio paccheggiatore Ma che Te lo do all'euro eh Vieni vieni Di qua Di qua Di qua Mullezza Lui aca Ferma 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 Un euro Un pagamento anticipato La tengo sotto Nessuno di noi ha cecchino Nessuno di voi ha cecchino Io ce l'ho a cecchino Io ce l'ho a cecchino No, bravo Qua è una buona zona per cecchinare Per essere cecchinato Anche per essere cecchinato Lui sta un po' indietro Noo Oh Non è troppo c'ho il pirla e non c'ho più volto io c'ho un'uva via ok sì sì no ve lo dico solo perché così non mi dimentico di averlo bravo tienilo si stanno massacrando la praticamente ho buttato uno a terra e ho distrutto il camion guarda 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 che qua va raga e anche la guarda adesso li ho terrati tutti e due un colpetto un colpetto no che schifo li avevo messi a terra si anch'io cato mattino alle 6 sveglia ciao buonanotte 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 a tutti buonanotte a tutti buonanotte a tutti buonanotte a tutti buonanotte a tutti